Uno degli arricchimenti che abbiamo l'opportuna di avere questa sera grazie al nostro ospite Fabio Rossi che ci racconta di una realtà che è una delle espressioni del territorio di questo museo rappresentante, il museo di Valentano, che io ho conosciuto però prima dell'evoluzione degli musei che eravamo arrivati a frequentare noi edustologi, più o meno protostorici, grazie al pubblico organizzato dalla biblioteca d'acqua, che ho trovato nel festival areale sulla base dei miscabili dell'Università Trinale, non solo in questa zona, per tanto bene. Zone che sono tra le più belle del nostro aldolano, sono tra le più interessanti, tra quelle di grande maggiore profondità cronologica, e qui accanto a me la collega Patrizia Petitti, che soltanto da pochi giorni, non credo che sia arrivato nemmeno un mese, è transitata dalla sovrintendenza dell'Università Trinale 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 di Giterbo al Museo Nazionale dell'Università Trinale 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 dell'Università Trin offrire direttamente alla vostra esperienza. Io purtroppo non sarò tra quelli che potranno sperimentare perché dovrò andare via quasi subito dopo questa breve introduzione, però prometto di venire a trovare, magari di cambiare se lo volete questo invito, raccontandovi la Giulia da voi, lo scopo è di metterci alla pari con realtà che qualcuno potrebbe considerare più piccole o, come dicono, spesso minore rispetto alla nostra, ma che hanno la stessa identica violenza che abbiamo noi in qualità di presidi territoriali per la Lufca, anzi i loro musei, i musei in Italia a contare le loro storie di persone qui a Villa Giulia sono forse un presidio territoriale anche più importante di quello di Villa Giulia perché sono più vicini alle persone, più vicini al territorio. E il collega, non so se sa, però questo invito ha un rispettivo che ci dovrete dare. Adesso io ho due cartelline e tu dovremmo ridurre anche un amministratore che questa sera non ha potuto essere con noi, perché noi vorremmo che queste storie di persone, queste storie di musei potessero contribuire da essere raccolte alla fine con volumi di cui sappiamo potremmo essere editori e e quindi qua ci sono un fascicolo da lista con una propis e le norme relazionate con la scadenza della consegna. Allora, ringraziando nuovamente e scusandovi per il fatto di poter vi lasciare molto presto, spero che possiate poter vedere l'esperienza che oggi viene raccontata, toccare, guardare e non guardare e poi noi facciamo tutto questo anche con lo scopo di farlo vedere attraverso i nostri canali social e questa sera siamo, come sempre, ben documentati. Quindi lascio la presidenza a Patrizia Petitti e ti ringrazio ancora di essere stato con noi oggi un buon video. Ringrazio il direttore, inizio per questa interessante iniziativa, l'unico iniziativa e solo le forze del museo nuovo probabilmente non possono garantire soltanto l'altezza dell'offerta nazionalità rispetto all'altro, ma anche con l'impegno del backstage, possiamo dire, della presentazione e della cura di queste conferenze. C'è stato detto, solo questa mattina, che il rappresentante a cui, però, pervenneva, non poteva essere un politico, non poteva essere presente, noi, in questo momento, a Valentano siamo un commissario straordinario, tanto che pervenneva, perché Valentano non è il solito, ai miei, a questo tipo di gestione. Il commissario, soprattutto in mente, grazie al direttore per questa opportunità, iniziativa, ma, dicendo che il vicepresidente, in questi giorni di avvicinamento dei luoghi, è chiaramente un amico di garantire la sua presenza. Il tema scelto, stasera appunto, è quello che un po' ci connota, in particolare, con le attività museali a Valentano. Ci sarà, soprattutto, una parte di presentazione, proprio, del museo, per chi lo conosce, sperando che sia anche un'unità, un'invito, manifesto, devo dire, a venire a vederlo, appunto, a Valentano. Siamo, in realtà, un territorio abbastanza sconosciuto, un po' di difficile, anche, all'unità, soprattutto, rispetto all'unità. Io ho dovuto mettere una cartina, non siamo un po' alle potagini della provincia di Tempo. Siamo, dicevo, alle potagini della provincia di Tempo, a confine con la Toscana. In un territorio, che vedete, vedete, non costanza. Per il nostro anno di Bozzena, dove fangerate, in realtà, isole, Rosentina e Martana, ma anche, appunto, appunto, appena arrivata a confine, nei paesi, cittadini, forse, mai riconosciuti, come quella di una tiglia di loro. Bucci, ovviamente, non poteva nucare, perché aveva una scelta interna dell'Osservazione del Busco. è un paese, però, che, fin dall'antichità, è ben otto un omaggio al luogo che ci ospita. Non potevamo non ricordare anche il passaggio di George Dennis, che, nel suo viaggio in Calituria, si retta alla scelta, un'unità di scritte musiche, è passato anche da Toscana. in realtà, per quanto riguarda la storia etrusica, che, certamente, avrà interessato anche per voi di Valentano, Dennis non trovò, per anche, in realtà, un bel po' lo sappiamo tutt'oggi, ma, passandolo, lascia una descrizione particolare, fugace e interessante di Valentano, affacciandosi su un cerdino fuori da Toscana San Martino, che è iniziato sul lato nord del paese, e rimane affascinato proprio dal paisaggio che questo angolo di Valentano si poteva vedere. il testuale Ordenes dico, appunto, che valutano da una straordinaria verranza che si affaccia su una natura del Sena, e, infatti, sullo scopo del lato suddito. La natura verdeggiana, che vedete, invece, di Bocchiano, è una parte della cantetta. Tutto questo territorio molto deve alla sua formazione più antica, che è strettamente legata, appunto, al vulcano, al vulcano, quindi, dell'articolo secco, che fortemente ha caratterizzato, fin dall'attività, non soltanto l'ambiente, ma anche le antiche centri di territorio che si sono sosseguita. Il museo, il museo è in realtà un'esperienza relativamente recente, parte del 1985, io l'ho dato appena, per me è un tempo relativamente breve, e il Consiglio Comunale dell'epoca decise, deliberò, di istruire quello che l'idea iniziale doveva essere il museo una volta. Perchè il museo della modica? Perchè, nel punto più alto, di valentano, si trovava, la rispetto, probabilmente, la rocca francese. Ma queste erano le condizioni in cui, appunto, questa parte di valentano si trovava. La rocca, che era stata, centro dell'attività, un'unica, più importante del paese, il punto di domenica scientificale, dopo l'ultima esperienza, intorno agli anni 50, agli anni 60, per esempio scopo, come scuola politica, hanno fu lasciato andare. quindi, quello che si trovava nel punto più particolare e nel conto di valentano sono sostanzialmente delle proprie, straordinarie, come dire, che si guarda all'inizio. di valentano, questi nomi, è un po' che, in un punto, devo solo assolutamente ricordare un po' l'anima di valentà che, ha voluto, certamente, il museo era un po' un po' una storia storica di queste prime fasi del museo. In queste stesse immagini mi chiedono di osservare l'attenzione perché le ripassiamo a un altro aspetto a me. Sostanzialmente, la scelta che potete fare con distinzione dell'epoca è avere o, definitivamente, abbattere, togliere i mezzi a queste retoline che stavano diventando un territorio pubblico, oppure cercare qualche modo di restituire l'antica limitata in qualche modo appunto alla stessa. in 1996, 1985, 1986, un secolo per l'automunico. Questo dicembre è stato dicembre che ha visto un, direi, lavorio continuo per restituire appunto splendore e darocca sia dal punto di vista dell'automunico attraverso un, diciamo, semplice restauro selvaggio degli eventi ma, appunto, scegliendo di modo che importa cosa e come restaurare e cosa restituire dei secoli che in realtà hanno già distinto. Vi dicevo, inizialmente si istituì appunto un museo dell'automunico cioè si immaginava che Marola Farnese di Valentano dovesse in qualche modo ospitare un museo che parlasse di se stessa della storia che stava espitare. E qui, un altro nome perché non si può altri nomi in realtà che possono non ricordare sono appunto patrisi abediti qui a Cartogne perché l'intuizione fortemente è appunto sostenuta forse anche un po' qualche idea dell'ego per parte per esempio dei soggetti che si sono scendati che ha visto tra l'altro sostegno non soltanto un uomo ma anche un po' interventuale per la regione Lazio tenete presente che sostanzialmente tutti i danni grossi progetti nell'ambito museale dall'inizio adesso sono praticamente stati tutti finanziati ma fondi europei e fondi regionali che vedete la loro e in questo caso certamente rivolgo laurea di cortina adesso possiamo ringraziare non soltanto l'apporto che ha dato appunto negli anni ma anche lo scambio per me è presente perché noi ci siamo conosciuti in periodi più recenti rispetto alle vicende del museo questo che vedete è il cortile il grande cortile di accesso che raccoglie e abbraccia diversa per il modo torre che era la verità del museo la torre che prima è quasi completamente distrutta la grande torre che è anche da un punto di vista l'itonico l'evimento più antico dell'intero complesso perché risale appunto le fasi di vita della rocca quando ancora dopo l'inizio del 1300 era sostanzialmente il luogo di attestamento di protezione delle città ma il museo è anche recuperando quelle che sono state poche quelle che sono le tracce appunto dell'antico fasto legato alla residenza al secolo in cui la struttura fu residenza della famiglia famiglese quindi vi mostro che la residenza sono soltanto due pochi affreschi e conservati due cartelli in particolare che chi verrà a visitare il museo noterà che in tutti i cartelli appunto sono figurati quelli che non sono sono originari recuperati segnali in particolare le strutture perché risalgono affrono a periodo quando la roca viene riconfruttata per l'occasione di cerverga del matrimonio tra un esponente della famiglia famiglese e esponente della famiglia famiglese più 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 i soldi elementi ben durati perché i matrimoni trattavasi quindi non potevano mancare le sfide e gravi a tutto che viaggiamo nella storia del museo siamo ormai nel 1700 di nuovo l'aspetto della roca natale siamo ormai voluto l'istruzione a un castro sono terminati da poco le discute anche con la famiglia parentesi siamo diventati proprio grazie al che li concedete a seguito e qui siamo ormai all'ipiglio dell'istoria della famiglia siamo nel 1800 quando l'intero contesto viene destinato a convendere costura e ridisegnare e riconfigurare ancora una volta l'aspetto dell'opera di questo periodo in realtà sono varie che oggi rimango ma certamente la scala santa è il elemento più bello più significativo che possiamo finire che sappiamo che la scala è portata al primo piano cioè al piano di rappresentanza al piano secondo cioè a quello destinato alla famiglia venne affrontato venne chiuso alla scala e venne ritrovata alla scala santa tra l'altro ci dico ci dice che chi la studiata può essere anche una riproduzione per quest'anno rispetto a quello che in passato era la scala santa che oggi troviamo la scala tra l'altro il direttore primo di questa scala santa in questo momento fu quindi la nuova la patria santa di Guano e era salvato nel progetto faccio notare tutti che era ottenuto da pad assolisti che ha avuto oggi sappiamo anche che può essere abbastanza tendibile l'informazione che fra i vari scuole ci fu anche quindi ridestudire anche i soggetti affrescati nella rocca verosimilene il giusto il classico appunto della logia quindi non alconce ma ospitale appunto mi che la avvitato in una delle che fu ristenza e tradizionale per molti o tre secoli, non abbiamo quasi un tragico affresso originale. Quelli che vedete appunto sono commissionati, infatti letterizzati proprio dalla città dei monache e rappresentano le tradizionali scene fatte dal Vangelo della Vettazione della Passione. ...di elementi conservati e il soffitto di probabilmente antecedente, quindi conservato all'occasione, dicevo, antecedente appunto alla realizzazione degli effetti soggetti salari. Che cosa viene in mente allora? All'inizio a tutti i gruppi di professionisti, in sostanzialmente dell'applicazione 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 Parliamo di un periodo che siamo con i primi anni Olanda, con i musei, con i musei, con il proprio museo, in cui ancora la museologia dell'Eterra sostanzialmente prevedeva appunto soprattutto degli territori decentrati, ecco, sicuramente da Roma, esperienze museali legate a quelle che in realtà poi rispondevano meglio questa situazione delle riflessioni dell'applicazione 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 dell'applicazione. Cioè piccole strutture, piccole o grandi strutture, ma che erano destinate prevalentemente a una frontale, la storia alla montale e la dove per notare si è venuto sostanzialmente dell'applicazione dell'applicazione. Ovviamente in antico quelli che oggi sono dei confini amministrativi non erano sempre più presenti. Che cosa si è ottenuto su questa sabbia? In realtà, tutta una serie di piccoli musei, in qualche modo, replicano l'uno dell'altro, che raccontavano le vicende, in questo caso archeologiche, dall'altra storia fino all'età contemporanea, ma, ecco, senza inserire il centro di modo contemporaneo. A Valentano, l'intenzione di visione, poi, con l'idea del gioco 4, con quella di realizzare un centro monografico, ovviamente, un tematico, dedicato a quello che, all'epoca, era anche un periodo storico, portale, ma ancora poco conosciuto, in qualche modo, perché, a quegli anni risalano, tra l'altro, quelli che, poi, sono stati, scambi archeologici più importanti nella costruzione della storia dell'unità centrale. Penso sui soldati della Costituzza, penso allo scavo del proprio miglioritizazio di ciò, penso agli scambi di tutto il corso, in realtà, degli imponenti e inserimenti di tutti gli altri soggetti. Ma, appunto, occorreva creare un museo che, per primo, con un vasto territorio, raccontasse, appunto, questa fase della storia umana, che non aveva mai raccontato in un'idea rispostiva fino a quel punto. Il museo, oltre a sempone, aveva anche un'idea scambiera fra quelli, quindi, già non erano grandi musei del territorio, da un lato, il museo nazionale di Luce, che, appunto, viene la stagione data a Luce stessa, e, in qualche punto, anche il museo della storia corregge, il museo nazionale di tempo, e, appunto, su un'altra dimensione che ha avuto puntata questa storia di Luce stessa. raccontando, appunto, le scelte umane dall'inizio, ecco, fino, appunto, alle topaggini di quella che era, di quella che era, poi, la grande domanda della città di Luce. Non a caso, d'oggi, il museo di Lantano si ferma proprio laddove questi musei, sostanzialmente le scelte umane dall'inizio. E, anche qui, questo progetto si intendeva esporre, appunto, far raccontare quelli che erano dei passivi, non soltanto, quasi nessuno, un certo progetto, un certo progetto di Lantano, ma tutto il vasto territorio, sostanzialmente, interroreggio interno, con questo progetto di narrare e raccontare la storia fuori da qualche anno di confini amministrativi. E allora, per raccontare, succede, e quindi, diciamo, a rilavorare anche al tema di stasera, i vari linguaggi utilizzati. Già dal primo investimento, come vi vedete proprio all'inizio, un investitore che ne ricorda questa gigantesca zanna di LFAS, di LFAS che è antico, ritrovato tra l'altro, comunque più scane, i linguaggi che furono scelti inizialmente sono stati già allontentici, e un po', come dice il titolo dell'ultimus, da un'informazione più immediata, essenziale, della scania, accompagnata però da un'informazione più approfondita, affidata dai pannelli, pannelli che però non si invitano, non si invitano, non si invitano a raccontare, appunto, la storia locale, ma per raccontare, narrare, tempi trasversali, collegati alla storia, attivano a esperienze varie da l'Italia e dell'Europa. Quindi, in realtà, questi paletti sono una sorta di finestra sulle grandi temi problematiche che vanno a costare, appunto, a partire dall'oggetto, a partire da un ripetente che si sceglie di disporre. Non potevano citare quella grande sala di realtà che ospitava durante la Sinteria Farnese, quella sala di rappresentanza, appunto, del Signore, che, raccinto perché, quando io sono arrivato nel 2006, e ho racconto tutte le esperienze che si vuole immaginare, da chi, fino a quel momento, era, appunto, in qualche modo, rete, direte, che sono stati in un secolo, sono stato subito messo conoscenze di quale raro stato fluo, la sala dedicata all'economico, perché, appunto, anche in questo caso, la soluzione allestitiva doveva non soltanto, appunto, continuare l'esposizione della storia, ma doveva anche rispettare, e questo è un po' l'unico criterio che ci ha scritto con la distinta, con l'interessato del museo, anche la storia stessa, perché, appunto, si è voluto far dialogare l'allestimento tematico sulla storia con i vocali della propria francese che, in realtà, è un verbo naturale per se stesso. Io, sempre, ma chiaramente, un vocatore, avevo conosciuto Sater, e spesso tutto, a valutano, si potrebbe veramente fare un museo esclusivamente dedicato alla propria francese, cioè si potrebbe sconare, finalmente, nell'esposizione legata alle storie, fino a che ci sarò io, non ci sarà, per ogni motivo, però, effettivamente, la rocca francese per se stessa si prestebbe anche a questo tipo di esperimento. Non potevo citare, ovviamente, la vera del museo, che sono, appunto, le varie materiali, che vedete sul campo 1, quelle varie materiali, delicate, questo straordinario scritto oggi sommerso, sono le acque dentro del campo, bellissimo, venne uscaldito in tempo per la verità, sulle cui rive, sulle cui sponde, nel tanto il bronzo, sorgeva un fiorentissimo villaggio, all'attività di quelli che oggi siamo trovati, che non conosce per l'esperienza, no, che era il bambino, anzi, abbiamo anche il transattino, che bene, anche per la nostra comunità, e conserviamo questo straordinario materiale, in cui ho messo una delle femmine fredate, che ha restituito un sito, che ha restituito soltanto un po' parcellane integro, ma anche oggetti straordinari, anche di tallo, spalle, oggetti anche più ordinei, tutti esposti in campo. Come vi dicevo, oltre che, appunto, da andare alla storia, si è però anche deciso di dedicare una sezione a raccontare, appunto, le vicende, legate, non soltanto alla rocca, a famiglie, ma alla famiglia, che, come vi dicevo, che è sempre stata ascoltata, e un po' più trasforma, con la realtà stessa, e quindi nasce anche la sezione, che è dedicata alla rocca, che, proprio da lì, dei numerosi lavori, interventi di restauro, trae anche il materiale, che può essere stato ascoltato, assolutamente. Si arriva a questo modo, in realtà, sulla terra di Ucente, che vi sbaglio, che, se no, calchiamo nelle fasi, non è che nella gestione dei Uset, perché, come appunto, il direttore di inizio finisce, per esempio, c'è anche la possibilità, insomma, che risparluremo, perché gestire i musei, cioè i musei di entro calci, non è per niente, sì, un divertimento, che si fa l'attraventura, si arriva, poi, in questo modo, inizio, interventente, anche nel senso, quando, devo dire, in questo caso, Dario Giovelazio, che è, probabilmente, una delle scontrici, dei più presenti, decise, per un anno privato, un anno di vita, e conciutamente, e li vorrebbe dire, a dire, signorale di giornale, a dare attenzione di vita, in queste amministrazioni, cioè, un museo, che, fino a quel momento, aveva, effettivamente, avuto, stariati, denari pubblici, per, appunto, sistemarsi, per allestirsi, interamente, era arrivato il momento, appunto, di, fare il fatto di valutà, di dotare, questa struttura, di un certo tipo di, personale, di professionalità, di un museo, che, contestualmente, è l'anno in cui, io, fu intendente, scelto, in realtà, devo ancora capire, se era stata un po' tra, come dire, una bulla, di qualcuno, oppure no, comunque, fu illuminato, in cui, il conoscito, il museo, per lo stesso altro, l'amministrazione, deciso di, strutturare, anche un interno, per i museali, e anche un intervento. Con questo anno, si comincia, a dare, un nuovo impulso, al progetto, a quest'anno reale, a tutte quelle, che, appunto, sono un po', le attività, che, il progetto, del progetto unico, una che, è stata, altamente, in particolare, la conferenza stampa, la presentazione, questo ciclo di conferenza, ci ricorda, come missione trasversale, di un museo. E quindi, sono arrivate, alcune unità, particolari, delle esposizioni, questi, questo, veramente, nel corso degli anni, non importa, questo, quanto, il risultato, come questo, particolare, oggetto, che, è, un oggettivo, per la cotta, quattro centimetri, come vedete, da, ma, è un segnale, stato che, è l'unico, che, nel intimo, di questo genere, noto, in tutta la regione della razia, un unico. In realtà, è uno fra i pochi elementi, noti, in Italia centrale, bisogna assolutamente arrivare a un'autorità esenzionale per avere un corpus un po' più ampio di questo progetto. Questo progetto, questo progetto singolare, è esposto a un servizio. In una, qui è entrato un po' fa, quindi, omaggio a Marcello Forgia, che ci ha raggiunto, che vi grazia, da un'idea anche, così, allestitiva di Marcello, appunto, abbiamo, appunto, grazie, ovviamente, alla collaborazione di tutta la superintendenza, di Poglio, di Marcello Forgia, di tutta la squadra, allora, della superintendenza che insiedeva di Giulia, che speriamo di continuare con il museo autonomo, appunto, si è potuto allestire in una sala, all'interno di una grande comunità portagonale, una saletta, appunto, interamente dedicata a questo, unico, a questo scolario oggetto del tempo romanziale. Quindi, novità, ma anche un nuovo modo di raccontare, appunto, la storia della Pogluna. Quindi, devo uscire un attimo dalla presentazione, perché è un elemento degli ultimi su cui stiamo ancora lavorando, e quindi lo presentiamo in un ottimo, abbiamo deciso, in te due minuti, di approfondire le modalità con cui l'invistratore può conoscere, appunto, la casa di Marcello. Qui abbiamo scelto, in questo caso, un elemento in particolare, che è il cammino. che avete visto prima, mentre si tropevo, nelle slide, nella grande sala di Capale Politico, dicevo, il salone di rappresentanza della famiglia Fabriese. Ecco, quel cammino, che si trova su una parete di destra, e, tra l'altro, un'opera realizzata su un progetto di Antonio Sant'Angio. E, appunto, da qui, a qualche mese, gli illustratori, l'Istituzio di Valutano, sarà dotata in diventeria di rapporto alla sperimentazione, una tecnologie sudorico dei musei moderni, che noi non poteranno, ci sono tracce a questa magliege contro le tiglie, quindi si potranno, appunto, approfondire, recuperando la filosofia iniziale, questi ulteriori elementi, appunto, grazie a dei fumati che viene, appunto, in particolare. Conoscete Antonio Sant'Angio Giordini? È stato un personaggio molto influente in questa zona nel periodo di una scintata. Un architetto fiorentino, vissuto tra il 1483 e il 1514, uno dei principali interpreti della grandezza della famiglia Fabriese. Per loro progettò fortificazioni, rocche e palazzi, fra i quali il Palazzo Farnese di Gradoli e la chiesa di Sant'Angio a Cerno. Condotta con la unità, è stata sua l'idea per rendire la sala locale della Rapa di Valentano. Infatti, si è camminata in calzata in soffitto e l'aria dotata in un cammino comunitale travertino, di cui sono stati ritrovati iniziali del progetto. Pensate che prima di crescendo il suo ruolo per riscaldare i casi e i palazzi era proprio l'utilizzo del cammino, che però comportava un grande consumo di dieta. È per questo che spesso i grandi cammini dei saloni non venivano ottimizzati. Nella vita quotidiana si usavano molto di più di scandinia carboniana, che oltremmo ottenere la base. È per questo che l'invenzione della SEMUFA, nel 17 secolo, è stata una vera e propria rivoluzione. Grazie. 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 utilizzato metaboli, citri di conferenze, studi nel settore, questo è l'ultimo che è stato pubblicato, letture che possiamo considerare in modo impegnante, in base di buone per avventi e lavori, ma ci siamo venuti a concentrare e a legare anche a letture direzionamenti italiani per il pittorio sempre appassionante e soprattutto, e questo è un po' il nostro pione che costitue, l'attenzione al comunicare i temi che riguardano il museo ma appunto anche a un pubblico di più piccoli. Questa è un'unità di amicoli, questa è un'unità interamente pensata e organizzata per i famigli e per le aziende. Abbiamo realizzato l'ultimo seminario, le conferenze, le carvalie, nei tentativi luoghi dei gare, quando conservato, considerizzato, con un'interno della Rocca, con il territorio di pertenenza e quindi incontri in vario genere, non soltanto sul tipo delle conferenze che voglio dire, hanno sempre meno appiglia e stampano anche le linee che in realtà a volte le hanno premato da realizzarle e allora ci siamo, appunto, orientati verso il tentativo di comunicare il contenuto con cose più leggere, per esempio il tracking sul territorio, il tracking umano che si è stato organizzato, per esempio, da quest'estate, oppure andiamo da un via, insieme all'altro, anche ad altri colleghi, a workshop, seminari, addirittura, come in questo caso, itinerati, in collaborazione anche con altri colleghi, sempre a partire da elementi che all'interno del museo, dove i nostri musei sono, appunto, conservati, per attualizzare i miei miei dei gare che servono più al territorio a cui contengono. L'ultimo esperimento è il progetto Azure, che tra l'altro, proprio nel corso, nelle altre serie museali che compongono il sistema museale dell'Agro di Muzera, in questo caso siamo pronti, abbiamo scelto completamente di uscire la storia tecnica, la storia ferronese, la rocca, ma, appunto, ci siamo interrogati un po' sulle cose insottiche, cioè che cosa, sempre però, facendo parte della storia dell'Agro, anche in questo caso, sappiamo che Valentano, in generale, anche la storia della rocca, fu scelta, domani, come una, che è l'elocation, appunto, che è uno dei vari di cui definono, appunto, il meglio del nostro regolo. E, comunque, questa conferenza teatralizzata, in realtà, ha preso il nuovo studio da quest'arte, da quest'arte. Sì, queste mostre, e qui di nuovo, il giudiano, se non li conoscono, la barica, l'ultima e quella più dedicata, la nuova Mazzana, l'occasione dell'espo. E poi, è un pop, è un'argomento sideriano, un'opera del museo, anche qui. Il tempo passa, c'era una volta nel 2007, dei strani personaggi, in realtà, in questo caso, appunto, per il corpo, la professoressa Satti, Dico Angelaccio, e la loro sindaco di Valentano, lo posso dire, se non mi stai c'è. E io ripieno molto, per la capacità, la libertà, che ho avuto, di dare un bel uso al museo e a chi all'interno, fortunatamente, ci ha lavorato. E, in quegli anni, noi cominciamo a, appunto, cuocere le domande sull'accessibilità. In realtà, molto era già stato fatto, per quanto riguarda, ad esempio, l'accessibilità notopica della rocca di Valentano, il castello della rocca Farnese, in quanto bene filare per se stessi, ovviamente, non si presta ad essere adattata, ma, anche in quel caso, come dire, sono state trovate le eccellenze, delle eccellenti soluzioni per prendere tutta la rocca fluibile, quindi con sistemi trascali, con catariche, l'ascensore, eccetera, addirittura la stessa torre protagonale è stata resa accessibile. Cioè, si può salire fin sopra, appunto, della fina destabilità, con un elevatore, quindi anche in codere del panorama. L'accessibilità notoria, diciamo, era stata la prima, certamente, che deve essere stata risolta, perché non c'è una legge che impone questo tipo di attenzioni, ma, con certe l'accessibilità, ovviamente, con il messaggio che abbiamo oggi, in quanto si sta lavorando in questo campo, è chiaramente vasto, costissimo, quando avrà a lavorare, e quindi, ecco, noi, nel mio destino di inizia, cominciamo a chiederci anche questo. Quale accessibilità? Cioè, è sufficiente per mettersi la coscienza posto, dicendo che il museo è accessibile, nel senso che non ci sono barriere elettroniche, oppure dobbiamo cominciare a, appunto, occuparci di questo, di questo spettro in maniera più comunica. Quindi, la risposta è così, ma quale? Quale accessibilità? Per quali, ovviamente, l'esperimento che sembia, come in realtà, una mostra, che si è rietato da bloccare, in cui, è quella dell'accessibilità, viene affrontato, non soltanto rispetto a specifiche disabilità, in caso specifico, utile, persone, visite, ma l'accessibilità, invece, è intesa dell'accessione del pubblico. Cioè, come, effettivamente, prendere delle condizioni il pubblico tutto di comprendere, di entrare all'interno del museo e di allocare con ciò che in esso è esposto. In questo senso, rientra anche, appunto, l'accessibilità antirale alla tecnica. Tutti noi, quando entriamo nel museo, anche nei detti lavori, un po' sono strano, ma nei miei lavori siamo d'accordo, però ho sempre questo aspetto, di fatto, chiunque, di nuovo, di un visita museo e di un museo, di un privato archeologico, in realtà vive e felicitisce ciò che vede, ciò che, appunto, sale attraversa, in realtà con una visione che qualcun altro ha pensato, che c'è il lavoro del progettista, c'è il lavoro di chi allestisce, c'è il lavoro di chi pensa in museo e che quindi non, e che fa comunicare, in realtà, dal sogno, gli stati dell'istituzione. E poi c'è l'interno scopo della patrina, che, volenti e volenti, è un filtro che, comunque, si frappone fra l'oggetto e il mondo che cerchiamo di fruire e interpretare l'oggetto stesso. Quindi, in Italia, per toccare la creata, già nel film lo nasconde con un programma, che sorvetta completamente quello che devo dire fino a poca anni fa, ma, in particolare, lo spaurato che sempre si vedeva, si prega di non pubblicare l'opera d'arte, si prega di non avvicinarsi all'opera d'arte, per poter pubblicare l'arte, e si sondette completamente il modo che sta in questo studio. È un percorso, all'epoca era un percorso, appunto, tattile, olfattivo, che immetteva le persone, passando in termini anche noi, un tattile, che vedete qui in questa diapositiva, che venivano dei dati proprio per spingerli, l'accrociare all'esposizione, e tendono in gioco tutti gli altri sensi che lo fossero messi. passano, nel frattempo, sei anni da quell'esperienza, e quella che fu in realtà una mostra, un evento, una stagione, ha poi dato strutto per aiutare il museo di realtà, devo dire, di difficile manipolazione, diciamo, nell'allestimento iniziale, ma, anche qui, recuperando, anzi tanto, ha sottoscritto la possibilità di intervenire un po' all'immunità, devo dire, di un progetto, ormai in piena fase esecutiva, di recupero, complessivo, totale, con la trama della Rocca, e qui, io cito, per amicizia, per altre persone che è ritravenato, ad assenza della parola, allora, professionale, il Fortes, vanno allora, il Foto-Facial Museum, che, appunto, sposò, in pieno, questa, questa filosofia, in questo evento, in questo evento, in questo evento, di armentire, appunto, il museo, di un intero malignone, di un'intera sezione espositiva, in cui, quella che era, appunto, tra l'altro strato, è diventato, nell'arrestire, in maniera, che abbiamo fatto, toccare la storia. Di nuovo, siamo rimasti legati, affezionati, a quello che è, l'elemento tematico, che ci contraddistingue, ma, offrendo all'estruttore, un percorso, completamente, fruibile, dalle, tecniche, di cui, gli oggetti, che grazie, all'archeologia, l'archeologia, ma anche, all'archeologia, sperimentale, sono veramente, copie, fedeli, quando dico fedeli, intendo, fedeli, tutte le caratteristiche, diciamo, fotografica, ma, andando a studiare, prima, scientificamente, l'oggetto, che si è voluto produrre, per, ricondurlo, veramente, questi elementi, anche, attraverso, i caratteristiche, gli altri oggetti, sperimentali, cioè, ad esempio, per tutti, le spalle, inesame, che veramente, sono ben toccate, e che tocca a spento, anche, la direzione, funzionando, e funzionando, il resto di tendenza, è un progetto, molto delicato, e straordinario, e bene, grazie alle precedenti analisi, scientifici, fisiche, la rivoluzione, veramente, una cosa fedele, che ti ha porto, lo stesso tipo di idea, tecnica, il tecnico finale, la stupidità, dell'esportation, eccetera, per tutti questi elementi, è stato fatto, questo tipo di studio, quindi, non sono, poche, non dire, così, fatte fare, a partire da una foto, ma, sono veramente, corti, intenti, perché, bisognava superare, appunto, quello che chiamo, il frutto della vetrina, cioè, non era, importante, proprio tra poche, ma, cercare di restituire, la stessa emizione, la stessa sensazione, che, ciascuno, riguole, toccando, un oggetto, ecco, perché, tutto questo, e poi, una grande, costruzione, è la cabanna, prima parlavo, era finita, l'acqua di mezzano, e, in realtà, come lo sappiamo, in realtà, come fossero, queste cabanne, di mezzano, ma, grazie, vedete, ai dati, che abbiamo dato, a scala, poeri, siamo stati in grado, anche, di pensare, e ipotizzare, la scrittura, della cabanna, nei suoi elementi, importanti, e quindi, il dischiatore, può, non rendersi conto, realmente, di come, ecco, poter, come poterla essere, all'interno di una cabanna, di questa, a quale oggetto trovare, come poterla essere risposti, quale fosse, l'unore, e il modello di sicurezza. E poi, da qui, è partito, un po', in tutte le, sono partite le impressioni, su, quali linguaggi, che le imprezzioni, hanno fatto in modo, in senso, trasversale. Abbiamo, quindi, cominciato, a interrogarci, appunto, su quali fossero, le forme, più donne, per piaccare, con il pubblico. Quando il pubblico, io, è un po', in blocco, un po', cioè, per esempio, che sono fatti, in modo trasversale, famiglie, adulti, perché, il tema, non è stesso, ma, viene cambiata, dell'approccio. E molto, quello che, adalità, oggi, viene proposto, per le attività, di laboratorio, di occasione, di incontro, appunto, derivato da quello che, oggi, viene chiamato, comunque, educazione, profondale, in cui, l'elemento, principe, è il coinvolgimento, della persona, del fruttore, adicente, e san regale. Quindi, il fruttore, è soggetto, attivo, dell'approccio. Quindi, non c'è, il conferenziale, in cui, come sto facendo io, non morba, più o meno, in maniera divertente, l'editorio, ma, attraverso, appunto, degli attori, dell'anno, a dire, la conoscenza, viene costruita, insieme, tramite, un continuo, scambio, da un greco, risposta, ovviamente, il operatore, che è, in qualche modo, volutile, deve orientare, appunto, l'apprendimento, sovrisuscitando, e sovreditando, appunto, l'esperienza, della persona. Ovviamente, questo si è subito, eh, concretizzato, anche, in una, disidenza, in modalità, le proposte, conoscenze, scolare, e abbiamo, addirittura, cosa mi piaceva citarlo, abbiamo cambiato, proprio, il modo, di ricordarsi, alle scuole, cioè, non ci rivolgiamo, più alle scuole, o alle insegnanti, in qualche modo, ma ci rivolgiamo, direttamente, a un destinatario ultimo. quindi, anche, le nostre proposte, in laboratorio, ad esempio, i laboratori datici, interni, che io, devo dire, non amano, particolarmente, ma, quello, l'esperienza, che si andrà a vivere, non è, comunitata, con i bambini, quindi, con un linguaggio, semplice, ma non banale, ovvio, se non dico, ma che per primi, devono capire, devono capire, quindi, non deve essere, un insegnante, a dire, abbiamo la valentà, ma a fare, il laboratorio di, non so, tintura, storica, o di, cosa succeda, cantigiana, ma, deve essere, il bambino, deve essere, la classe, a dire, ah, questo laboratorio, ci piace, ci sono le etiche, a scegliere questo. Quindi, questo è un esempio, questo è quello che arriva, appunto, alle dirigenze, scolastiche, opposto che, all'insegnante. Eh, varie forme, varie esperienze, dal telai, la distitua pre-stolica, la distitua pre-stolica, e qui vedete, artisti moderni, all'opera, eh, metano, come dire, ampio, vuol dire, spazio, la dottografia, anche delle realizzazioni. la carica di 109, perché, ecco, siamo ben contenti, ormai da qualche anno, devo dire, che questo, cambio, eh, modalità, di lavoro, la scambola, e questo qua, per dire, la scendenza, del nostro museo, in termini, numeri, eh, ecco, ospitiamo, tutta la stagione, diciamo, in maverine, da febbraio, fino a giugno, in realtà, numerosi gruppi, gli scolaresi, che, tra l'altro, ecco, scegliono, in questo, ci sembra, un po' incoraggiante, appositamente, ma lontano, anche da lì, assolutamente, perché, ecco, la carica di 109, perché questo, è l'istituto, di Roma, ma che impiega, ogni anno, da noi, quasi, tre ore, perché, come si sa, vuol dire, delle niente, del valentano, ebbene, la carica di 109, però, i propri motivi, perché, qua, non si muove, chiaramente, si muovono, in volta, in volta, in volta, ma ne siamo pendenti, di, 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 in Italia. Questo vuol dire, appunto, ecco, i nuovi, nuovi linguaggi, una nuova modalità, con cui stiamo cercando, di, presentare, la storia, ripeto, non paralizzando, nulla, ma che fare, con noi, dai centri, di, 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 di disposizione, di cui Gio Votto insegna, perché, il messaggio che non cerchiamo di usare, è scientificamente esatto, puntuato, ma comunicato, con un linguaggio, appunto, appropriato per tutti. Looo che non significa banalizzare, non significa, sebbiamo di sorta dire, scegliere la strada giusta, per realtà di quella classe. Grazie a tutti